Venezia è una città d'arte affascinante con una ricca storia e patrimonio culturale. Situata nel nord-est dell'Italia, Venezia è conosciuta in tutto il mondo per i suoi canali, le gondole, le maschere del carnevale e l'architettura rinascimentale. In questo articolo SEO, ti elencheremo i 5 luoghi da non perdere durante la tua visita al comune di Venezia. Piazza San Marco Piazza San Marco è il cuore di Venezia e un luogo di incontro per turisti e locali. Circondata da edifici storici come la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale e il Campanile di San Marco, la piazza è un'attrazione imperdibile. Il miglior momento per visitarla è la mattina presto, quando le folle sono ancora ridotte e l'aria è fresca. Canal Grande Il Canal Grande è il principale canale di Venezia e si snoda attraverso la città per quasi 4 chilometri. Un modo ideale per esplorarlo è in barca, magari in una gondola guidata da un gondoliere. Durante il tragitto, potrai ammirare splendidi palazzi, chiese e ponti, che offrono un'esperienza unica e romantica. Ponte di Rialto Il Ponte di Rialto è il ponte più famoso di Venezia e collega le due parti della città attraverso il Canal Grande. Costruito nel XVI secolo, è uno dei simboli più rappresentativi della città. Una passeggiata sul ponte ti offrirà una vista mozzafiato sulla città e sul canale sottostante. Quartiere di Cannareggio Il quartiere di Cannareggio è uno dei più autentici di Venezia, con una vasta gamma di ristoranti e bar locali. Qui potrai trovare molte delle attrazioni meno conosciute della città, come la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e il Museo Ebraico. Cannareggio è anche un ottimo posto per sperimentare la cucina veneziana tradizionale. Isola di Burano L'isola di Burano è una piccola isola situata a circa 40 minuti di vaporetto dal centro di Venezia. È famosa per le sue case colorate e per la produzione di merletti. Un giro sull'isola ti permetterà di esplorare la cultura locale, gustare il pesce fresco e ammirare l'artigianato locale. In sintesi, Venezia è una città incredibile che merita di essere esplorata nei minimi dettagli. Questi cinque luoghi ti daranno solo un assaggio di tutto ciò che la città ha da offrire, ma ti daranno comunque una buona idea di cosa aspettarti durante la tua visita. Prepara la tua macchina fotografica, e goditi al massimo il tuo soggiorno nella città più romantica del mondo.